Cioè ogni azione che faccio per raggiungere un obiettivo mi permette di raggiungere un livello di autostima alto. Quindi questo è un altro punto fondamentale, perché se noi non inseguiamo, non mettiamo in atto delle azioni che vanno nelle azioni dove vogliamo andare, cos'era? Era la pubblicità di un video che è partito, era la pubblicità di un video che è partito, Canetti, Canetti stavo toccando qualcosa, qua è partita la pubblicità di un video su YouTube, quello era.